ciao bimbi come state anche oggi vorrei leggere con voi un libro viva i colori delle emozioni questo è il mostro dei colori oggi si è svegliato di umore strano è confuso stralunato non riesce a capire che cosa gli succede hai combinato un altro guaio non imparerai mai hai fatto un pasticcio con le tue emozioni così tutte mescolate non funzionano bisognerebbe separarle e sistemarle ciascuna nel suo barattolo se vuoi ti aiuto io a metterle in ordine l'allegria è contagiosa splende come il sole brilla come le stelle quando sei allegro ridi salti balli giochi e vuoi condividere la tua gioia con gli altri la tristezza è sempre il rimpianto di qualcosa è lieve come il mare dolce come i giorni di pioggia quando sei triste vuoi stare da solo e non desideri fare niente la rabbia si infiamma di rosso vivo ed è feroce come il fuoco che divampa e non si riesce a spegnere quando sei arrabbiato senti che è stata commessa un'ingiustizia e vuoi scaricare la rabbia sugli altri la paura è vigliacca si nasconde e fugge come un ladro nell'oscurità quando hai paura diventi piccolo e insignificante e credi che non riuscirai a fare quello che ti chiedono la calma è tranquilla come gli alberi leggera come una foglia al vento quando sei calmo il tuo respiro è lento e profondo ti senti in pace queste sono le tue emozioni ognuna ha un colore diverso e se sono in ordine funzionano meglio vedi ora sono tutte al loro posto la tristezza di colore blu la rabbia di colore rosso la calma di colore verde la paura di colore nero e l'allegria di colore giallo e adesso che cosa ti sta succedendo? ciao bimbi spero vi sia piaciuta ci vediamo presto